Oh, ma io non tilto più, dai. Sei liggato, porco dio. Sì. Boh, non è bello giocare quando non riesci a prendere niente, muovi a master. Una di quelle cose è che se facessi io mi flame a resta un sacco, tipo, a questo. Però lo fa sciogli e quindi va bene. Eh sì, infatti io devo cercare il tank, devo cercare le cose utili. Ma come fai a tiltare adesso? No, perché lo so, in realtà è così, ogni volta che c'è qualcosa... Sì, però, ma come fai a tiltare a un minuto e 54 e non è ancora successo niente? Mi ho vinto, ho finito perché ho vinto. Mi sono sentato perché non ci siamo. Mi volevo andare già. È iniziato, è iniziato col shifter, è finito col goly shit. Ah, se sono andato a jungle solo perché rompevate i coglioni. Porco dio, se è... Oh, che buco d'io. No, dai. Puttana, asciug... SARA! Cosa è che hai fatto? Cosa è che hai fatto? Sono... Testa di cazzo, eh. Cosa è che t'ha fatto?